Ciao, sono Daniele Moschini e sono un dottorando di scienze chimiche e ambientali. Mi occupo della caratterizzazione di nanomateriali che nel mio caso specifico hanno una dimensione paragonabile a quelle del DNA umano. In particolare mi occupo di semiconduttori che hanno delle speciali proprietà ottiche e che trovano oggi utilizzo nell'industria dei display e nel fotovoltaico. Caratterizzare un nanomateriale significa dare specifiche informazioni su un determinato campione come la dimensione media delle particelle che lo compongono, la loro dispersione, la presenza di difetti e la loro composizione. Per questo motivo qui all'Insubrio mi occupo di sviluppare dei modelli computazionali che modellano segnali di diffrazione da raggi X collezionati su questi campioni in modo molto accurato. L'accuratezza in questa determinazione è fondamentale e per farvelo capire voglio mostrarvi questi tre campioni che hanno un uguale composizione ma una dimensione delle particelle media che varia di poche decine di atomi e qui potete vedere come le loro proprietà ottiche cambiano vistosamente. Ma questo è solo un piccolo assaggio di un vastissimo mondo su questo tipo di nanomateriali. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, alla prossima!